durante il programma tv pechino express per via dell'eccessivo sforzo fisico achille costa curta figlio 18 anni di martina e billy accusato un malore rischiando di dover abbandonare anzitempo la competizione andare avanti senza di lui è impensabile impossibile dice tra le lacrime mamma martina colombari alla ricerca di un passaggio mentre il figlio è disteso sul ciglio della strada mi sento da sola e mi spiace perché sta male ovviamente lui vuole continuare ma sta male continua l'ex miss italia madre figlio poi sono stati trasferiti in albergo dove verrà sottoposta una terapia adeguata ad achille grazie grazie